Cioè se ci sgombano, poi che fanno? Che me lo chiedi al singolare? Tu che fai? Invece che appoggiare? Noi che fanno? E' uguale. Fare quello che pensi sia meglio di fare. Dobbiamo fare un progetto. Se la vita è brutta, noi siamo più brutti della vita. Che dobbiamo fare? Fanno un progetto? Io della vita ho una mezz'idea. La stavo circa navigando. Tipo? Per un po' di tempo si mettemmo i soldi a pezzo. Un po' di tempo determinato dalla nostra voglia per fare questo progetto. Si mette un po' di soldi a pezzo. O questi soldi a pezzo partiamo. Partiamo per qualche... Meta sconosciuto. Buonissimo. Questi soldi che riusciamo a mettere da parte investiamo per una piccola attività. Io ho intenzione di fare un po' di gara. Per un po' di gara. Per un po' di gara. Per un po' di gara.